I campioni regionali sono i ragazzi del Camaro. Grazie ad una rete arrivata al 14esimo del secondo tempo con un rigore concesso dal direttore di gara e trasformato da Daniele D'Amico, la società messinese si aggiudica il titolo di campione regionale della categoria Juniores. La partita si è disputata allo stadio Saraceno di Ravanusa ed è stata organizzata dalla società Canicati Calcio, detentore fino a ieri del titolo del 2018. Lo scorso anno erano stati infatti i ragazzi del Canicati, allora guidati dal tecnico Luigi Giordano, ad imporsi ai calci di rigore proprio sul Camaro. Quest'anno invece in finale sono arrivati Parmonval e Camaro e alla fine hanno vinto i messinesi. Anche se la gara è stata combattuta, ben giocata da entrambe le formazioni e con qualche polemica di troppo sulla direzione arbitrale. Al termine dei 90 minuti infatti in campo c'erano per la Parmonval solo otto giocatori, tre erano stati espulsi. Il rigore del Camaro c'era ma poteva esserci anche il penalty per l'atterramento in area di Pennino che il direttore non ha concesso. Alla Parmonval è stato annullato anche un gol per posizione di fuorigioco. Polemiche finali per una frase che secondo la dirigenza della Parmonval, l'arbitro, il signor Cristian De Caro di Ricata, appartenente alla sezione Aia di Grigento, avrebbe proferito nei confronti di Collei facendo riferimento al suo colore della pelle. Le partite hanno giocato bene, abbiamo giocato bene, però tutti hanno visto come è andata la partita. L'arbitro è dentro al campo, ha fatto quello che vuole. È finito così. L'arbitro può dire a persone, negro di merda. Non mi tocca, io ti butto fuori. Sì, giusto? Chi ha detto l'arbitro negro di merda? A mio compagno ha detto negro sporco, ha detto a mio compagno. Giusto così? Abbiamo fatto tutto, abbiamo dato tutto fino a qua. Tu puoi dire a persone, negro di merda, arbitro. La società Parmonval ha annunciato che sta predisponendo gli atti per presentare una querela nei confronti del direttore di gara. Dalla sezione Aia di Grigento fanno sapere che questo rientra nelle prerogative della società, ma è chiaro che chi fa una denuncia del genere se ne assume tutte le responsabilità che ne derivano perché deve essere dimostrato. Tra le polemiche e le esternazioni del presidente della Parmonval Edita Maio, deputato regionale del direttore sportivo, l'avvocato agrigentino Giovanni Castronovo si è comunque svolta alla cerimonia di premiazione. A premiare la squadra vincitrice sono stati il presidente regionale della FIGC Santino Lopresti e il sindaco di Ravanusa Carmelo D'Angelo.